buongiorno massimo grazie mille per essere qua senti il tema del co-working mi fa molto piacere averti qua perché è sempre sfiorato nelle puntate precedenti oggi stiamo registrando la decima che non sono tante però comunque sono sono volate in queste dieci puntate abbiamo avuto vari ospiti che sono degli artisti che sono degli imprenditori e il tema del co-working è sempre stato toccato poco ma sempre quindi oggi è un grande piacere per me averti qua perché se il creatore della rete co che è la prima rete di co-working in italia e il concetto di co-working come stavamo dicendo prima è proprio cambiato negli ultimi anni è quasi una realtà è una realtà che si dà per scontato tu che l'hai portato sostanzialmente in italia come come hai visto il il passaggio che c'è stato tra dire che cos'è il co-working e interfacciarsi invece con persone che sanno già benissimo qual è il co-working cioè mi viene in mente le richieste che vi arriveranno oggi sono totalmente diverse dalle richieste che vi arrivavano dieci anni fa certamente è cambiato lo scenario però è cambiato un po a macchia di leopardo ci sono dei luoghi come milano e alcuni altri posti dove l'idea è già più conosciuta e non mi stupisce che chi è passato da questa sala prima in un modo o nell'altro insomma ha parlato di co-working o magari lavora in uno spazio di co-working sì perché c'è come una divisione tra italia e milano che non c'è nord e sud c'è italia e milano basta vedere la rete di co-working vostra vedi la concentrazione che c'è a milano e poi mi viene in mente proprio tutta una parte d'italia che comprende marche calabria puglia dove sicilia dove sono praticamente assenti forse ce n'è uno in tutta la sicilia nella vostra rete sì ce ne sono due in sicilia due in sardegna e a milano quanti ce ne sono invece a milano ce ne sono trenta sì è così indubbiamente però c'è molto interesse e ormai diciamo le richieste che ci vengono sono più dal resto d'italia perché poi credo che sia anche una cosa come dire legata il fatto che noi siamo nati qui e ovviamente il nostro primo network di conoscenze di amici di potenziali co-worker sono stati i nostri network personali quindi questo ha radicato molto la nostra attività a milano in lombardia però credo che il terzo o quarto co-working della nostra rete ti parlo del 2009 fosse a rovigo in veneto quindi già dieci anni fa nove anni fa il seme volava per l'italia ma quali erano le richieste che vi arrivavano dieci anni fa cioè vi arrivavano richieste prima di tutto allora l'idea di fare la rete è nata circa un anno dopo la nostra apertura l'apertura del nostro primo spazio nostro diciamo spazio master che abbiamo aperto appunto qui a milano lambrate nel 2008 il primo di aprile il fatto di fare una rete ci è stato suggerito di fatto dal fatto che qualcuno ci chiamava sconosciuti ovviamente da altre città d'italia quindi bene cioè vuoi fare un co-working anche tu a rovigo a padova o a roma o dove sei non è niente di particolare se vuoi ti diamo dei consigli noi comunque abbiamo iniziato subito a comunicare online attraverso prima un sito che si chiamava co-working milano si chiama tuttora co-working milano e poi co-working project anche lì comunque ottima la mossa di marketing comprare subito il dominio co-working milano perché immagino oggi quanto costa io parlavo con il creatore qua dello spazio in cui in cui siamo in cui siamo ospitati che è il co-working dove attualmente io lavoro e mi diceva che lui provava a fare delle campagne adwords all'inizio e il costo per clic di quelle campagne era ridicolo il costo delle campagne adwords a settembre che è il momento in cui principalmente si cerca il co-working era quasi di 4 euro a clic che è colpa nostra pensa che noi non ne facevamo abbiamo iniziato un paio d'anni fa a fare campagne e abbiamo sempre lavorato con un marketing organico cioè di passaparola puro un po' perché erano anni in cui farsi notare in rete era più semplice era così non c'era non c'era tantissima gente in rete l'onda dei social network era ancora da venire e noi grazie al nostro background di marketing di comunicazione abbiamo molto sperimentato questi questi approcci questi strumenti come il blog ad esempio e si è diciamo questa attività si è interfacciata bene con la nostra mentalità di marketer di comunicatori perché tu oltre i creatori della rete co-wo sei un copywriter sì io soprattutto direi nel senso che se guardiamo anche oggi tu fai il copywriter o il co-working ti assume tutta la parte? no il co-working mi ha assorbito totalmente ma da due anni quindi per otto anni io ho portato avanti il co-working e tutto quello che ne viene dietro la rete eccetera come attività diciamo secondaria sempre meno secondaria con il tempo e poi dal 2016 come diciamo unica attività tieni conto però comunque che le nostre competenze di marketing di comunicazione e di pubblicità diciamo pure sono state messe a servizio della rete quindi questo anche forse non ho cambiato completamente lavoro l'ho solo messo al servizio di un'idea che mi assorbe e mi ha fatto innamorare insomma ecco voi vi riferite alle persone che hanno uno spazio sostanzialmente inutilizzato e quindi non da tutte quelle persone che invece vogliono creare proprio un co-working nel senso che non hanno uno spazio e dicono voglio farlo diventare il mio business com'è cambiata poi dopo il panorama perché mi immagino che prima erano concepiti più come degli studi condivisi e ora invece ci sono delle realtà molto affermate qua a Milano soprattutto che insomma non penso sia facile poi dopo competere no? come si fa anche a competere con queste realtà? noi da subito e tuttora seguiamo una linea precisa noi attiviamo realtà di co-working attività di co-working all'interno di attività esistenti quindi questo è stato il nostro taglio dall'inizio questo continuiamo a fare per il semplice motivo che la nostra esperienza è stata dall'inizio questa perché come già ci siamo detti io gestivo un'agenzia di comunicazione che si chiama Monkey Business ed è stato negli uffici di Monkey Business che abbiamo cominciato a sperimentare il co-working questo non è da trascurare perché come dire è proprio un approccio specifico nel senso che abbiamo rifiutato o meglio ignorato l'aspetto business plan abbiamo ignorato un po' volontariamente anche per fare un esperimento tutto quello che è profitto e attività come dire puramente commerciale attenzione non sto dicendo che l'abbiamo dimenticato l'abbiamo messo al numero 2 e al numero 1 abbiamo messo un'altra cosa la relazione questo è figlio della nostra esperienza di quel periodo perché i nostri collaboratori e collaboratori dell'agenzia grazie a internet, all'email, alla possibilità di lavorare in remoto hanno cominciato a prendere un po' meno il treno dall'Interland appena c'è stata la possibilità di lavorare per email loro hanno cominciato a non venire più giustamente nel senso che abbiamo accordato un modo di lavorare diverso le nostre scrivanie, le nostre 10 scrivanie si sono liberate quindi abbiamo cambiato la nostra organizzazione di lavoro continuando a fare esattamente le cose di prima e ci siamo ritrovati con 140 metri praticamente a disposizione a Milano che non è poco a Milano, avere 140 metri quadrati era il nostro ufficio con 7 collaboratori tra l'altro voi siete in una zona che oggi è diventata fighissima nel 2008 era così bella? no, nel 2008 era un cantiere era un cantiere e siamo stati anche fortunati perché poteva anche diventare una zona come tante altre non avevamo assolutamente l'idea che diventasse una zona bella diciamo che ci piace raccontarci che un po' abbiamo aiutato anche noi questo quartiere giusto è vero un po' di passaggio in questi dieci anni anche perché comunque lì in zona Lambrata ce ne sono tanti di co-working sì ce ne sono tanti perché come dire l'impollinazione è stata molto forte addirittura nel nostro civico ce n'è un altro ma andiamo d'accordo ma è della vostra rete è della vostra rete e qui vengo alla seconda domanda che tu mi hai detto come si fa a competere noi non pensiamo che sia una competizione forse perché viviamo questa cosa in termini non esclusivamente commerciali ecco prima ti raccontavo come noi abbiamo cercato non tanto di affittare le scrivanie che era un po' l'idea come dire base del co-working ma quello che veramente desideravamo era non rimanere soli in questo ambiente dove la tecnologia un po' ci allontanava dai nostri contatti quotidiani gli stessi rapporti con i clienti come puoi immaginare erano diventati molto più radi nel senso che mentre nel 2005 nel 2000 e negli anni 90 si faceva una riunione alla settimana con un cliente importante a volte anche di più poi si è cominciato a farlo una volta al mese poi si è cominciato a vedersi solo quando c'era da firmare il contratto perché tutto avveniva e continua ad avvenire ovviamente via digitale via mail adesso poi ci sono mille contatti mille canali in tutto questo noi abbiamo detto bene cosa succede? stiamo rimanendo quasi sempre da soli tutte le giornate e noi cercavamo anche oltre all'aspetto economico che ovviamente non fa schifo a nessuno ma cercavamo anche la possibilità di incontrare altri professionisti perché è ovvio che una realtà fatta di poche persone come la nostra tende un pochettino ad isolarsi tanto più se poi come dire mancano anche le occasioni di incontro mancano le riunioni con i clienti che ne so la situazione dei freelance è spesso solitaria è vero no? ti raccontavo prima appunto questo aneddoto io sono venuto a conoscenza del co-working quattro anni fa, cinque anni fa e anche meno probabilmente e quindi l'ho scoperto tardi era già una realtà fermata infatti c'erano dei miei colleghi dei miei amici che andavano già nel co-working e io gli chiedevo ma perché vai nel co-working? cos'è il co-working? e mi dicevano è un posto dove andare a lavorare e io ho pensato ah ok ti daranno il computer bello ti daranno non lo so dell'attrezzatura no 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 è proprio un posto dove ti danno una scrivania e basta e io mi chiedevo ma cosa serve? e perché? perché? perché pagare un posto? non puoi andare in biblioteca bene mi sono bastati due mesi a lavorare da casa che ho cambiato subito idea è proprio la contaminazione con altri freelance soprattutto se fanno un lavoro diverso dal tuo perché diventano poi dopo complementare le conoscenze e ci si aiuta non si rischia di essere tutti nella stessa bolla nello stesso settore che spesso poi dopo è fatto anche di lamentele mentre è più bello sentire il parere di altre persone di altri settori e questa cosa penso che è quello che stavi raccontando tu che è nata così sì guarda questo è il motivo storico che gli americani che hanno inventato il co-working nel 2005 hanno sempre detto e sacrosanta verità tu stesso me lo stai confermando anche io ho passato la stessa esperienza e praticamente il 70% della persone che vanno nei co-working rifugge dall'isolamento detto questo quello che a volte sfugge che è stata forse anche un po' una nostra piccola intuizione ma perché l'abbiamo vissuta è che anche chi gestisce le strutture a volte ha un problema di isolamento il nostro è stato un caso di questo tipo nonostante mille contatti nonostante un'agenzia che andava bene nonostante tante cose comunque ci siamo sentiti un pochettino persi in un grande mare e il fatto di avere dei metri quadri dei tavoli liberi ci ha suggerito grazie anche poi a come dire alle cose che abbiamo visto su internet appunto dalla California eccetera ci ha suggerito una possibilità di entrare in contatto con altri professionisti e al tempo stesso anche guadagnare qualcosa che naturalmente ha un suo perché infatti poi razionalizzando un po' tutto questo noi abbiamo iniziato a dire questa frase il co-working ha due gambe anche a chi voleva farlo abbiamo pian piano capito anche un po' come raccontarlo e la frase è sempre stata questa il co-working secondo noi di Retecovo ha due gambe una gamba si chiama profitto e una gamba si chiama relazione senza un tuo interesse su entrambi questi aspetti probabilmente non vai lontano sicuramente non vai lontano con noi perché noi la viviamo così se pensi solo al business se vuoi solo guadagnare ci sono tanti altri modi più redditizi di farlo se pensi solo a relazione beh sappi che comunque nel co-working c'è anche un corrispettivo economico mi viene da dire che questo è un principale punto secondo me di differenza fra il co-working come lo intendi tu e il co-working invece inteso nei grandi spazi non penso che chi investa anche perché sono aziende grosse con investimenti importanti alle spalle non sia fatto solo per la rete di contatti ma quello è business a tutti gli effetti beh sai in quegli spazi magari ci sono altre forme di contaminazione di conoscenza ad esempio ci sono molti eventi e quindi uno spazio magari molto grande con un'organizzazione molto forte magari anche una dimensione economica importante nei casi migliori sono in grado di impostare organizzare invitare realtà importanti per fare eventi che favoriscono la community di quei posti il nostro approccio è come dire più se vuoi contenuto però fa cadere relazioni molto molto forti perché fa incrociare non solo il co-worker con l'altro co-worker ma fa incrociare anche il co-worker con chi ha lo spazio quindi io ho uno studio di architettura e tu che sei un regista arrivi nel mio spazio ecco che immediatamente si incontrano un architetto e un regista poi arriva un giornalista poi arriva un amministratore di condominio poi arriva un esperto di sicurezza scusami non viene da ridere ci sono amministratore di condominio che lavorano in co-working assolutamente davvero sì sì assolutamente sì no perché si ha sempre l'idea che l'amministratore di condominio a parte che non trovo una persona a cui stia simpatico l'amministratore di condominio ci sono sempre problemi con gli amministratori di condominio immagino avercelo come magari vicino di scrivania un casino sempre al telefono poi ma no no io ne conosco più d'uno e sono professionisti che hanno colto l'opportunità di non avere una struttura fissa magari inutilizzata no perché l'amministratore di condominio di solito lavora o da solo se all'inizio o con un piccolo gruppo di collaboratori e poi ha le riunioni le riunioni con i condomini quindi magari un condominio di 200 famiglie ha bisogno di un posto grande e quindi il co-working è una soluzione ideale per loro perché possono usare una, due, tre scrivanie per la routine e poi nel momento in cui devono chiamare 50 condomini a fare una riunione ecco che affittano la sala per quella sera ma dai sai che non me l'aspettavo proprio ma senti ma il co-working più bizzarro che tu hai trovato in questi anni qual è stato? in assoluto sì senza citare nomi perché se no magari poi dopo si offendono però ci sono ci sono co-working nelle Alpi dedicati a sciatori estremi ci sono co-working in gli sciatori sì 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 in zone montane non in Italia sono verso l'est europeo ci sono realtà anche in posti idilliaci tipo i Caraibi che uniscono come dire iniziative magari di incentive per le aziende a co-worker di passaggio a gente che molla tutto e si trasferisce lì perché vuole vivere bene però magari uno straccio di lavoro ce l'ha e magari anche come dire persone che possono permettersi di lavorare in posti belli perché magari hanno internet company è irrilevante da dove la gestiscono e i co-working vedono anche questo tipo di situazioni qualcosa invece in Italia c'è qualcosa di particolare ma sai ogni co-working ha le sue caratteristiche noi insomma a noi piace valorizzarli tutti ma invece il co-working oggi è possibile se non si ha già uno spazio nel senso come proprio un modello di business affittare uno spazio oppure comprarlo addirittura e poi dopo mandarci dentro delle persone a lavorare quindi magari creare delle piccole sale per delle start-up oppure delle lunghe scrivanie per i freelance insomma mi vengono in mente tante soluzioni può essere un modello di business sostenibile perché comunque io mi metto nei panni di una persona che ha uno spazio effettivamente è uno dei modi che mi viene in mente nella mia ignoranza è più proficuo per affittare un posto sì è una domanda che mi viene rivolta spesso e io per onestà intellettuale dico attenzione l'onestà intellettuale mi viene dal fatto che la mia esperienza è diversa quindi io non ho fatto mai partire uno spazio di co-working da zero il mio spazio è figlio di un'altra attività e da questo approccio è nato anche l'approccio della rete quindi se adesso noi ci mettiamo a scorrere l'elenco dei cento e passa co-working della rete co-working in Italia praticamente tutti sono chiamiamoli ibridi cioè sono realtà miste detto questo mi capita mi è capitato più volte di seguire anche realtà come dire di co-working puro diciamo così noi siamo sempre molto prudenti su questo un po' come ho detto per onestà intellettuale non abbiamo una vera esperienza in questo campo nel co-working puro diciamo così un po' perché sinceramente ci credo fino a un certo punto i costi degli immobili il costo del lavoro sono tali che pensare di ripagarli con un con un co-working al cento per cento magari in tempi brevi io non la vedo tanto sinceramente in tempi medi o medio-lunghi può essere ne ho visti diversi però bisogna essere molto consapevoli di questa gradualità perché non dimentichiamo che primo il co-working è un'opzione ancora largamente sconosciuta anche se prima ci siamo detti delle cose diverse ma noi siamo a Milano e siamo anche all'interno di un settore molto esposto infatti è sempre il solito discorso Milano contro Italia nel senso che probabilmente in alcune zone non è così adottato il co-working ma anche perché banalmente te lo dicevate prima tutti i freelance che io conosco e quindi conosco dei grafici degli illustratori altri registi nessuno ha il proprio studio o chi ha il proprio studio è perché ha proprio l'azienda quindi magari si parla di volumi da fare anche di persone dipendenti esigenze totalmente diverse nessun freelance ad oggi a Milano ha uno spazio suo ma anche proprio per una questione di costi effettivi perché c'è un affitto da pagare per vivere quindi la propria casa chi ce l'ha di proprietà ben per lui e poi c'è anche l'affitto dello studio e a Milano è veramente difficile trovare dei posti delle soluzioni poi dopo ci devi investire dei soldi ci devi investire del tempo comunque perché la bellezza del co-working è che se non vai internet io chiamo e dico al proprietario non vai internet e se la vede lui non va la macchina del caffè la macchina del caffè è stato un problema per dei mesi infatti cambiamo la macchina del caffè no però ci sono tante cose che davvero ti assorbono tanto tempo se l'immobile è tuo mentre in un co-working tu paghi un fee mensile e tutti quei servizi li scegli hai e poi quando vuoi finire stacchi la spina esatto non hai soprattutto i vincoli questa è una grande cosa è assolutamente questo è un po' il motivo per cui diciamo c'è così tanta richiesta però ecco ragionando dal punto di vista dell'imprenditore dicevamo al di là di alcune nicchie di mercato o di alcuni alcuni luoghi ma ti posso garantire che c'è una Milano che è ancora totalmente lontana dal co-working perché se usciamo un po' dai nostri lavori anche Milano ha molto margine di crescita in generale è un'opzione comunque mediamente sconosciuta quindi vuol dire che tu vai a proporre un'attività che non esiste nella testa della maggior parte delle persone e quella stessa attività non ti dà comunque anche quando parte garanzie a lungo termine per i motivi che ci siamo detti un minuto fa perché comunque il co-worker giustamente è quello che viene per un mese o per sei mesi e poi va via è quello che comunque non ha non sempre poi magari a volte gli viene però non ha l'idea di rimanere a medio termine a lungo termine in uno spazio è anche forse il bello di questa cosa è assolutamente il bello per chi diciamo vuole ragionare da imprenditore questi però sono elementi da tenere molto molto sotto controllo c'è la variabile che se il posto resta sfitto chiamiamolo così perde il tempo e hai un affitto da pagare o dagli investimenti devi sapere quando arriva l'estate il co-worker tante volte dice ci vediamo a settembre magari gli finisce anche un progetto magari dice ma perché devo pagare un ufficio nel momento in cui mi vado a rilassare al mare o semplicemente non lavoro per un periodo il bellissimo del co-working è questo mi serve lo pago non mi serve non lo pago se tu ragioni dal punto di vista dell'imprenditore capisci subito perché dico attenzione se volete fare un'operazione sul co-working con grossi investimenti bisogna essere molto consapevoli perlomeno di una gradualità perché all'inizio non parte immediatamente noi facciamo tu accennavi alla nostra presenza online alla nostra così abilità di marketing ma anche con questi servizi anche con queste grosse leve che noi abbiamo ormai è comunque difficile all'inizio quindi noi siamo sempre molto prudenti figurati se uno arriva dice io mille metri voglio partire noi non siamo tanto contenti noi siamo molto prudenti tra l'altro ho notato in questi anni almeno questi due anni due anni e mezzo che io utilizzo il co-working come posto di lavoro come sede di lavoro soprattutto perché anche avere la sede di lavoro per un freelance ti posiziona a un livello più alto rispetto a fare un appuntamento all'interno di un bar che ti posiziona automaticamente come freelance molto più basso rispetto a me che ho il co-working ho notato che le soluzioni sono molto diverse rispetto anche solamente tre anni fa ci sono molte soluzioni passami il termine più liquide nel senso che sempre più persone lavorano con il portatile lavorano con l'ipad banalmente e quindi tante 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 soluzioni noto anche a giornata proprio cose per mi viene in mente i nomadi digitali smart worker che cambiano quindi spesso posto e quindi vedo è quasi più difficile trovare delle soluzioni fisse che per esempio per me che faccio il regista io purtroppo ho ancora il computer fisso ho tutta una serie di attrezzature un bel monitor eh ho il monitor ho le casse esatto tante cose e per forza di cose purtroppo mi piacerebbe anche a me lavorare col portatile ma non posso e invece sempre più persone lo possono fare anche tu hai notato questa cosa o non so come sì 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 com'è l'offerta cambiata in questi anni ma sì si è molto evoluta e sicuramente diciamo per quei pochi aficionados della prima ora il co-working era una scrivania oppure un tavolo condiviso se tu guardi google images per esempio le immagini caricate dagli americani negli anni 2005 seguenti sono sempre di gruppi che un tavolo come questo che è lungo un metro ottanta sì è largo un metro e venti per chi ci sta guardando sembra lunghissimo perché il grand'angolo è una stanza enorme in realtà è piccolissimo è un tavolo generoso dove come si lavora bene in quattro ecco loro sarebbero qui in otto con le cuffie con il loro portatile quasi tutti sviluppatori mondo web questo è diciamo quello che era il co-working all'inizio in America e poi anche un po' in Italia in realtà nel tempo negli anni quel servizio ultra basico super low cost assolutamente da nerd assolutamente estremo appunto da sviluppatore web si è affiancato invece un servizio un po' più qualitativo che prevede spesso un ufficio chiuso che prevede delle sale riunioni che prevede aule per fare corsi che prevede spazi per fare eventi quindi si è veramente allargato tantissimo proprio anche il concetto di quello che si può fare in un co-working capiterà anche qui sicuramente perché siete ben conosciuti lo spazio è molto bello di ricevere richieste per utilizzi diversi della scrivania quindi vengo lì a fare non so una sessione di coaching e ovviamente la sessione di coaching dura un'ora due ore mezza giornata non due a un mese un podcast perfetto e tante altre cose no e in tutto questo c'è anche l'utilizzo nomade diciamo così di non so l'americano che visita a Milano ma anche in Riviera in Liguria in Toscana in Sicilia noi abbiamo tutto questo percepiamo questo movimento di persone che sanno che si possono appoggiare a un co-working mentre magari sono anche in vacanza però magari sanno che hanno quella conference call da fare il 22 di agosto oppure vogliono tenere controllata la mail magari sono dall'estero e vanno nei co-working noi abbiamo un portale per esempio che si chiama coworkingturistico.it dove aggreghiamo gli spazi che sono in località ad alta frequentazione turistica e si propongono anche ai turisti no non lo sapevo per dirti giustamente ci sta diventando tutto molto liquido e la risposta è assolutamente ma quali sono le professioni che ci sono più in voga tra i co-workers ma guarda devo dirti che nei co-working c'è tutto tutto perché io fino a un po' di anni fa dicevo tutti quelli che lavorano da soli in particolare con una connessione internet adesso arrivano nei co-working anche i dipendenti delle aziende quindi e non pensare a internet company necessariamente pensa anche a aziende di copertura in legno pensa anche aziende di prevenzione incendi aziende normalissime diciamo così che però hanno capito magari hanno un management un pochettino più più evoluto un pochettino più informato e si rendono conto che se hai l'azienda a Roma e ti interessa una sede per l'area manager del nord Italia piuttosto che il nord ovest o il Piemonte la Lombardia o il Friul il Veneto non pensi più a fittargli un ufficio pensi sempre di più a prendergli una postazione in co-working o magari un ufficio chiuso in co-working perché magari se sei un'azienda e vuoi che il tuo area manager del Triveneto abbia un ufficio con un tavolo di riunioni si può avere e lo cerchino sempre di più nei co-working sì perché infatti non sono solamente per freelance i co-working ma anche per start-up ne vedo sempre di più tra l'altro di co-working per start-up almeno a Milano l'ecosistema in cui viviamo noi i co-working per start-up ce ne sono tantissimi la maggior parte vedo che sono spazi ad hoc per start-up e sono spazi creati appositamente per essere co-working quindi si discostano un po' della filosofia della filosofia che abbiamo certo finora certo però perché secondo te una start-up dovrebbe lavorare in un co-working quindi a contatto con altre persone che hai dei benefici però una start-up ha anche bisogno magari di concentrazione ha anche bisogno di flessibilità guarda l'ultimo affiliato alla nostra rete che ancora devo diciamo così svelare presentare noi abbiamo un piccolo iter che dura qualche settimana è una start-up è una start-up che ha preso i propri uffici ci ha chiamato dicendo noi siamo una start-up vogliamo attirare altre start-up perché fondamentalmente si sta affermando una visione dell'attività lavorativa che non vede come dire l'altro come nemico fondamentalmente o come concorrente o competitor ma ragione in termini di ecosistema quindi se io ho una start-up nel campo dell'intelligenza artificiale e tu magari hai un'altra attività sei un freelance o hai un'altra start-up nel campo della user interface per dire probabilmente noi troviamo più punti in comune che punti di competitività anzi punti di competitività zero punti in comune ne possiamo anche trovare e sai l'innovazione succede negli ecosistemi non succede negli uffici postali dove succede una cosa sola succede dove adesso non cito la Silicon Valley perché è una banalità però è un po' vero nel senso che lo vediamo anche nei nostri spazi nel nostro piccolo siamo magari anche solo in 5 o 10 però tutti facciamo lavori diversi e questo ci aiuta un pochettino aiuta ognuno di noi a crescere nel nostro lavoro anche se faccio l'amministratore di condominio ma se vado a bere il caffè con uno che fa marketing per il web probabilmente mi vengono delle idee o magari io aiuto lui con il suo condominio per dire e tutto questo crea un po' di crescita un po' a tanti livelli secondo te il co-working fa parte della sharing economy sì direi direi senz'altro sì anche se poi sharing economy come tante altre parole ed espressioni usate abusate possono voler dire tante cose sì perché sharing economy ha avuto un decollo pazzesco qualche anno fa è tutta la sharing economy poi c'è stata ed era super positivo come parola poi c'è stato un po' l'altro lato della medaglia della sharing economy vedi le grandi compagnie che poi di sharing hanno poco tipo Uber tipo Airbnb vedi che effettivamente di sharing economy hanno più un'economia che porta grano a chi ha fatto la piattaforma e poco invece a tutti gli utenti che ci sono dentro però il co-working tu lo ritieni all'interno di questa classificazione sì adesso magari usciamo un attimo dal concetto di etichetta che si può attaccare a tutte le cose anche il co-working stesso è un'etichetta potremmo parlare di cosa e co-working cosa no se noi andiamo su subito.it e digitiamo co-working probabilmente escono anche le cantine perché si comincia a capire che il co-working tira quindi ah sì c'è una cantina ma magari viene un freelance e l'ha affitta mettiamolo nella categoria co-working sì sì a Milano guarda che non mi stupirebbe ma infatti secondo me quello non è co-working ma restiamo pure nella sharing economy diciamo che l'attività di co-working vista da chi lo utilizza e anche da chi lo propone perché poi è l'incontro di chi ha uno spazio con chi lo vuole utilizzare è sicuramente un'attività di condivisione ed è indubbiamente legato all'economia perché questi sono appunto professionisti non sono amici in vacanza ma è gente che fa un lavoro quindi prendiamo una realtà che è data da uno spazio di x metri quadri con determinate attrezzature e ci innestiamo un concetto di condivisione perché non c'è una sola realtà professionale una sola azienda un solo freelance che lavora qui dentro ma sono tanti e c'è un sistema chiamiamolo così che si chiama co-working che permette intanto di utilizzarlo con certe regole che fanno bene a tutti quindi il concetto della sostenibilità per me è molto importante nel co-working e secondariamente permette anche un certo flusso perché un domani tu vai da un'altra parte arriva qualcun altro io posso arrivare con la mia attività posso lavorare con gli altri posso lavorare con il gestore posso non collaborare con nessuno però il sistema lo schema di riferimento porta a un incontro poi questo incontro si può tradurre andiamo a berci un caffè insieme cosa che succede ovviamente in maniera molto immediata e rapida ma anche può anche succedere sai cosa c'è partecipiamo a un bando di concorso con le nostre competenze insieme e ci siamo conosciuti in un co-working e io ne ho visto tante di succedere cose così ma noi andiamo a mangiare la polenta qua vicino su a con quindi share in polenta ma invece una cosa non sarei d'accordo su cui parlare però il co-working c'è anche dei difetti possiamo dirlo io li ho già elencati una volta e secondo me uno dei difetti appunto quando tu mi hai citato la persona che che lavora come amministratore di condominio all'interno di un co-working ho detto cavoli averlo come vicino di scrivania sarebbe un bel problema perché con questa sta il telefono per forza di cose il suo lavoro parlare con tutti i fornitori ecco quindi secondo me uno dei difetti è quello di avere di trovare delle persone che siano poi dopo effettivamente affini con te certo certo questo è importante tu invece trovi delle altre criticità nella tua storia di co-working che è sicuramente più lunga della mia ma guarda adesso non voglio fare quello tutto positivo però non ho trovato mai molte criticità credo però che sia fondamentale capire molto bene cosa stai facendo non sempre succede infatti noi quando avviciniamo un nuovo spazio che vuole entrare nella nostra rete così cerchiamo di mettere un po' in luce certi aspetti che sono appunto l'attenzione alle relazioni la sostenibilità possono sembrare delle banalità in realtà ti permettono di impostare le cose anche poi in termini di comunicazione in modo da presentarti un po' per certe persone certe attitudini che sono simili alla tua quindi se tu vuoi realizzare il massimo profitto da ogni singolo metro quadro attitudine secondo me sbagliata nel co-working però cosa farai? farai delle postazioni che somiglieranno a un pollaio e chi arriverà? arriverà chi usa quel tipo di postazioni per esempio i call center giusto? perché nei call center purtroppo sono realtà dove ogni secondo è monetizzato ogni centimetro quadrato è monetizzato e quindi che tipo di realtà si creerà in quello spazio lì? sicuramente non una realtà positiva quindi sarà uno spazio pieno di criticità perché la gente sta male perché sta stretta c'è molto rumore nessuno gliene frega niente di chi sei o cosa fai ma contano solo quante telefonate fai quanti contratti chiudi quindi stai creando un ambiente che non sarà mai un co-working della nostra rete ma secondo me non sarà neanche mai un co-working è semplicemente un posto di merda si può dire sì certo quindi se tu crei un posto con certe caratteristiche che non è orientato a coltivare anche la relazione o il co-working è sempre più relazione è sempre meno spazio tu dicevi sta diventando tutto molto liquido ed è verissimo ci sono sempre più spazi che ti fanno magari anche solo un accesso perché tu lavori col tablet o magari con un telefono grande o anche con un portatile che ti metti in grembo e ti accomodi su una poltroncina e magari non hai bisogno di venire tutti i giorni però ti piace l'idea di poter entrare in quello spazio lì quelle ore della giornata o i giorni della settimana che ti serve e sederti su una poltrona piuttosto che su una scrivania o su un tavolo di riunioni non ti importa niente questo dipende da chi gestisce gli spazi offrire questo tipo di possibilità quindi torno un po' all'inizio del discorso molto dipende da chi imposta gli spazi da chi propone il servizio se tu lo proponi nel modo giusto anche la telefonata non è un problema è ovvio che non puoi prendere un commerciale che fa 200 telefonate al giorno in un co-working non puoi non è il suo ambiente però tolto quello di fatto guarda tutti gli altri io ho visto veramente tutti i tipi di professionista è raro che qualcuno non sia adatto è più probabile che non sia adatto psicologicamente ma allora qui di nuovo torna poi in ballo la questione di chi gestisce il posto cioè se tu hai un posto dove come questo ad esempio dove lo stile le attitudini la giornata di lavoro si svolge secondo certe modalità e certe modalità vogliono anche dire questo bicchiere lo metto via quando vado via la sera se tu vedi tutti fare questa cosa anche tu che non sei portato poi la fai e questo è semplicemente il lavoro di chi gestisce uno spazio di co-working basta cioè basta questo in fondo e allora anche chi magari non sarebbe tanto propeso perché magari è abituato a parlare forte se vedono che se vede che tutti gli altri stanno attenti sta attento anche lui ma quali sono le nicchie che ci sono all'interno della vostra rete co-wo di settori dici sì perché sono alla fine penso che un modo per differenziarsi appunto questo creare delle piccole nicchie ho visto co-working per architetti come ti dicevo prima per creativi per digital esatto turistici turistici fantastico questo lo vado a vedere dopo sì allora devo fare un distinguo quelli che tu hai notato che abbiamo citato i co-working per architetti i co-working per i digital così sono spazi di co-working che hanno caratteristiche adeguate a un certo tipo di utenza ad esempio molto importante sono anche i co-working per le aziende e noi abbiamo infatti un portale che si chiama co-workingperaziende.it però questo non necessariamente indica che quegli spazi siano esclusivamente rivolti a quel target a quel tipo di utilizzatori no sono semplicemente spazi che hanno strutture approcci adeguati anche a quel tipo di target quindi noi abbiamo ritenuto di aggregarli in determinate piattaforme online per agevolare sia la ricerca sia l'offerta però tutti i nostri spazi sono aperti a tutti i tipi di categoria quindi direi guarda senza eccezioni uno spazio di co-working della rete covo non è che rifiuti un certo tipo di professionista poi si creano spontaneamente delle aggregazioni e qui siete tutti creativi ma io non credo che il gestore sia nato con quell'idea dall'inizio o forse sì magari è stato un po' un precursore però l'idea del co-working verticale come diciamo noi in gergo ecco è un'idea un po' sfuggente che a volte è più un'idea teorica poi nella pratica si trovano anche dei modi di contaminarsi che magari si trovano anche più divertenti di sicuro c'è un problema di mercato nel senso che è ancora più difficile come puoi immaginare proporre un co-working per una sola categoria a Milano ce ne sono è vero però ecco sono magari a volte spin off di aziende quindi non esattamente come dire sì ho visto che tra l'altro sul vostro sito ci sono anche dei co-working audio e video esclusivamente sì sì giusto però mi pare da quello che ho capito che siano degli spin off di case di produzione o audio sì 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 è esattamente così infatti non potrebbero offrire anche quel tipo di servizi in termini di impianti tecnologici facendo solo co-working però sono aziende di quel settore lì che hanno deciso di aprire la porta e di iniziare come dire delle contaminazioni con professionisti freelance registi eccetera senti abbiamo parlato prima dell'inizio del co-working e io sono andato a prendere delle tue vecchie slide che avevi fatto nel 2010 o 2009 addirittura quindi praticamente un anno dopo la creazione della rete covo vostra e vederle oggi mi facevano sorridere i numeri che c'erano all'interno perché si vedevano sulla mappa dell'Italic co-working e si contavano sulle dita probabilmente di una mano o due mani e c'era anche il volume degli affari che mi pare dopo tre anni insomma il valore totale di affari del co-working italiano quindi non solo vostro ma mi sa di tutto l'ecosistema italiano era 400.000 euro oggi questi dati come sono guarda è molto difficile perché non sono riuscito a trovare una presentazione nel 2018 per quello sì infatti non la facciamo nemmeno perché intanto mentre nel 2009 il co-working italiano era tutto nelle nostre agende nel senso che erano 10 numeri di telefono c'era uno in Piemonte c'eravamo noi così adesso lo scenario è completamente diverso quindi anche volendo cercare dei dati di mercato spesso me li chiedono dei dati di mercato ma a parte che noi non abbiamo mai fatto una ricerca di mercato però anche volendola fare sarebbe impossibile perché di co-working ce ne sono nuovi ogni giorno e ne chiudono ogni giorno quindi è un ecosistema totalmente impossibile da misurare certo si può anche come dire circoscrivere alle iniziative più conosciute quelle più organizzate eccetera però i numeri sono diventati molto diversi la nostra rete adesso non ricordo il numero esatto ma ha superato i 100 da diverso tempo siamo in 73 città italiane alcuni spazi hanno anche 50 postazioni i servizi che danno sono appunto come dicevamo prima dalla postazione allo spazio i 20 di 200 metri dove vanno a fare i TEDx le conferenze dare delle cifre su questo ecosistema è piuttosto come dire difficile immagino che anche voi vi siate ingranditi perché mi parlavi prima che all'inizio l'avete fondato tu e tua moglie e oggi siete ancora tu e tua moglie oppure avete preso dei collaboratori come gestite per fortuna non mi ha ancora lasciato sono un casino spero di trovarlo stasera a casa e abbiamo due collaboratori siamo in quattro e più un team esterno ecco però insomma il nostro team è di quattro persone siamo perché immagino che deve essere un bel cinema a gestire cento spazi assolutamente è un bellissimo cinema che inizia la mattina presto e finisce a notte però siamo molto supportati anche da consulenti esterni la nostra è una piccola in realtà non siamo un'azienda importante siamo più importanti di dieci anni fa questo sì però le nostre quote anche proprio parlando banalmente di fatturato di introiti abbiamo delle quote estremamente sostenibili cioè noi partiamo da 1250 euro all'anno per uno spazio di co-working di qualunque dimensione è ovvio che a certi livelli 1250 euro entrano i 15 giorni e noi ci facciamo pagare questo per un anno di lavoro sono felice di questo perché ci ha permesso di esplorare un modo di lavorare estremamente interessante a mio parere che è quello di mettere la relazione al numero 1 e profitto al numero 2 attenzione numero 2 non numero 5 10 o 100 ma numero 2 la relazione deve venire prima e per non come dire passare da quelli che fanno solo belle parole vedi concetto sharing economy con il culo degli altri scusa è proprio così ecco per uscire da queste etichette che cosa significa essere sostenibili significa proporre un servizio che ti permette di rientrare del suo costo e di guadagnare questo è stato il nostro primo obiettivo e lo è tuttora perché adesso abbiamo anche opzioni più costose ma è sempre la nostra prima idea di fronte ai nostri affiliati ai nostri clienti diciamo pure farli rientrare del loro investimento prima di tutto e dopodiché quindi quando sei rientrato l'investimento cosa succede? guadagni non è che siamo particolarmente nobili però abbiamo pensato che questo atteggiamento sostenibile fosse anche una buona leva di marketing perché se tu acquisti un servizio che ti permette di guadagnare in tempi normali ovviamente diventi anche tu stesso un evangelista un marketer per quel servizio e così in effetti è stato quindi i cosiddetti prodotti che si vendono da soli sì e in effetti in effetti Retecovo è stata ed è tuttora un prodotto che si vende da solo perché ti accennavo prima non so se avevamo già acceso il podcast sì perché faccio i trabocchetti prima faccio parlare poi dico no guarda che accendo adesso ah ho capito ho capito allora spero di aver fatto gaff comunque noi da solo da un paio d'anni che facciamo pubblicità a pagamento fino a 2016 inoltrato non abbiamo mai comprato un euro di pubblicità da nessuna parte la rete come direi due anni fa era già di 90 spazi quindi si è sviluppata in questo modo che è stato un bel esperimento perché il passaparola il famoso word of mouth si diceva nei primi anni 2000 quando nascevano i blog così anche il passaparola online viaggia da solo viaggia viaggia con leve appunto spontanee e quindi in tutto questo l'aspetto economico noi l'abbiamo lasciato un po' indietro un po' per questi motivi un po' perché per tanti anni noi ci siamo occupati di un altro business che è quello che di fatto ha finanziato Rete Covo perché se noi non avevamo un altro lavoro detto molto banalmente mai nella vita mettevamo in piedi questa rete con questi criteri però abbiamo imparato abbiamo imparato a proporre una cosa che che ha una sua validità l'abbiamo testata ampiamente quindi prima di come dire chiedere di essere pagati per un lavoro abbiamo dimostrato che questo lavoro valeva e l'abbiamo dimostrato facendo guadagnare i nostri affiliati e su questa base piano piano stiamo evolvendo stiamo diventando anche noi un pochino più sostenibili proprio noi come team ma senti invece come lo vedi il co-working fra non ti dico dieci anni perché è durissima però anche solamente fra cinque anni come li vedi gli sviluppi guarda penso che ci saranno più co-working che bar io penso questo e se i bar diventassero co-working i bar stanno già diventando co-working come anche le stazioni come anche i comporti te lo dico perché uno degli ospiti che è stato qua Riccardo Suardi lui ha proprio fatto un'app che va un po' ovviamente aspallate con il co-working perché è proprio nella concezione di far diventare i bar dei co-working perché gli spazi già ci sono sono inutilizzati in alcune ore del giorno sono vuoti e quindi sfruttare anche a livello sostenibile come parlavamo prima quindi tu ci vedi più co-working che bar in futuro sì poi magari i bar diventano co-working quindi non avremo più i bar avremo solo dei bar dentro i co-working sì sì assolutamente è così ma credo che crescerà tutto questo ecosistema crescerà tantissimo cioè non ci sarà un problema di competizione perché il modo di lavorare sta cambiando sta già cambiando per molti è cambiato per molti no per molti sono si parla tantissimo di smart working c'è perfino una legge sullo smart working quindi sono cambiamenti talmente macro che hai voglia far co-working cioè le aziende diventeranno co-working quindi tu dici il mercato attualmente non è saturo anzi no il mercato è lo 0,01 di saturazione adesso che siamo dieci anni dopo la nascita della nostra rete sono sono assolutamente convinto e ho riprove continue nel senso che noi abbiamo il polso del mercato sia lato utenti utilizzatori sia lato spazi no e questo su tutta Italia e da un po' di tempo anche in Canton Ticino quindi siamo anche fuori dall'Italia l'interesse è altissimo la richiesta è altissima i progetti sono tantissimi ovviamente non è tutto bello non è tutto oro quel che lucica come è normale che sia in tutte le cose però la direzione è assolutamente quella non ci sono dubbi per quanto mi riguarda grazie mille Max forza spero che la chiacchierata abbia chiarito l'idea chi vuole appunto lavorare in co-working sia servita anche perché sempre più persone come dici tu vogliono lavorare in co-working e oramai è proprio una realtà che è è affermata tutti gli effetti per soprattutto freelance e start up quindi non può che continuare a crescere grazie mille grazie a te grazie a te grazie a te